Bene, continuiamo sempre con la risposta a Mattia Galiani riguardo il caso della strage di Parigi. La volta scorsa mi ero interrotto a metà di un pensiero, lo riprendo dopo perché nel frattempo vi racconto che proprio stamattina, leggendo il venerdì di Repubblica, ho letto una lettera di un lettore a Michele Serra. Michele Serra è un giornalista che non mi piace per niente, mi sembra un finto progressista, nel senso che fa credere di voler avere una mentalità aperta, però non so quanto sia aperta. Vabbè che la maggior parte delle persone che conosco a questo mondo dal mio punto di vista hanno una mentalità più chiusa della mia. Ecco, ammetto che io giudico sempre molto male la mentalità di quasi tutti. Comunque, questo lettore, che tra l'altro era di Padova, quindi delle mie parti, perché io vivo in provincia di Padova, racconta questo fatto. non va all'edicola e sente la conversazione fra l'edicolante, una donna, e un altro compratore di giornali che lei dice, speriamo che non succeda anche in Italia una cosa del genere, non succeda anche da noi una cosa del genere, no? E il cliente gli risponde, invece io spero che succeda così, poi abbiamo un pretesto buono per buttarli fuori tutti questi musulmani di merda, eccetera, eccetera, no? E Padova, naturalmente, quindi una delle... Veneto, roccaforte della Lega, quindi con la mentalità che conosciamo, no? Ma d'altra parte, penso che in qualsiasi altra parte d'Italia, si sarebbero fatti commenti del genere, no? Perché la gente è così, purtroppo è così, è sempre stata così, sarà sempre così, non lo so. La natura umana, come tutte le cose di questo mondo, si evolve, ecco, e o ci estingueremo, o ci trasformeremo in qualche cosa di meglio, ecco, o degenereremo di nuovo allo stato animale, e forse sarebbe anche meglio, forse era meglio quando eravamo scimmie, o scimmie acquatiche, secondo alcune teorie. Allora, questo per far capire, no, che non c'è neanche bisogno di stare lì tanto a strumentalizzare in sé. Quando è successa la cosa, subito, e sta, il razzismo di tutti quanti, nei confronti dei musulmani, è stato dato fuori. Ora, io vi dico che non ho nessuna simpatia per l'Islam. Non mi piace la religione islamica, come non mi piace neanche tanto quella cristiana, o quella ebraica, non le religioni monoteistiche, a parte il mazzeismo, forse, ecco, non mi piacciono molto, però sono fermamente contrario ad ogni forma di pregiudizio nei loro confronti. Allora, senz'altro sono da condannare quelli che prendono questo pretesto per dare addosso un'ennesima volta i musulmani. sono in errore, senz'altro, anche quelli che dicono che, come dire, non si dovrebbero dire certe cose contro l'Islam, in linea di massima. Però, però, ho detto, i principi di libertà hanno una gerarchia, e bisogna anche fare i conti con la realtà. Allora, io ho detto che, appunto, c'è questa gerarchia dei valori, avevo finito la volta scorsa, e la libertà di prendere per il culo la gente fa parte della libertà di espressione, senz'altro. Esattamente come la libertà di dire cretinate, colossali, infami, ignopili, schifose, fa parte della libertà di pensiero e di parola. Per esempio, io sono contrario al fatto di, cioè, non so, di denunciare uno perché osa negare l'olocausto. e dico, ok, se tu vuoi negare l'esistenza, cioè, condannare uno perché nega l'esistenza dell'olocausto degli ebrei, va bene, allora devi però anche negare la libertà di fare vignette con le tre persone delle Trinità che si inculano tutte e tre. Ecco, per esempio. Perché, scusate, allora se si introduce un limite nella libertà di espressione se ne possono introdurre tanti altri, no? Se un ebreo si sente offeso perché viene negato lo sterminio degli ebrei, anche un cristiano può sentirsi offeso perché vede una vignetta con i tre personaggi della Trinità in cui si vede, appunto, il figlio che incula il padre e lo Spirito Santo che, tra l'altro rappresentato in modo sbagliato, che incula il figlio. Perché questa era l'immagine. Quindi, cioè, non bisogna usare due misure. Bisogna essere equanimi. Bisogna essere equanimi. Non lo sia stato fatto. Quando succedono queste cose nessuno è capace di esserlo. Io ho avuto l'impressione che nessuno fosse capace di ragionare, sostanzialmente. E anche che viviamo in un'epoca profondamente irrazionalista. Poi, soprattutto, i giornalisti. I giornalisti, non so se nelle epoche precedenti erano meglio, ma in quanto irrazionalismo li vedo sempre scivolare, sempre più in basso. Forse perché viviamo, appunto, in un'epoca irrazionalista, dove il valore della ragione non conta più assolutamente niente. Allora, per tornare a Bomba, no? Ecco, la libertà di dire puttanate, schifose, è uguale alla libertà di pigliare per il culo la gente. È una conseguenza collaterale necessaria che bisogna accettare della libertà di pensiero e di espressione. Non ci si può, come dire, gloriare di questo fatto. Perché se uno crede alle fie chimiche, al pianeta Nibiru, crede che l'olocausto non sia mai avvenuto, crede nel complotto del nuovo ordine mondiale, crede nei rettiliani e in tantissime altre puttanate, l'area 51, e in tantissime altre puttanate, che non hanno nessun fondamento, che nascono solo dalla fantasia della gente, fantasia malata, allora, scusate, cioè dice, sì, fa parte della libertà di espressione, bisogna rispettarla, ma non si può esaltarla. Ecco. Quindi, anche le fignette di Charlie Hebdo, io le considero una conseguenza collaterale della libertà di espressione, ma non me ne glorio, perché io penso che il fondamentalismo, l'integralismo religioso, il fanatismo religioso, non le combatti con le vignette, con le penne e basta. Per me, l'eroe che difende la civiltà contro l'integralismo islamico e che va a costruire una scuola nei paesi africani, per insegnare i bambini a leggere e a scrivere, è a non lasciarsi manipolare da ideologie religiose o politiche che siano. Così si combatte l'integralismo islamico. Il fanatismo lo si combatte combattendo il disagio, dando ai giovani lavoro, perché questi giovani che entrano a far parte dell'ISIS sono persone che ovviamente vivono in uno stato di alienazione sociale che evidentemente non si sono sentite aiutate da una società che in fin dei conti rifiuta i giovani, non li aiuta, insomma, lo sappiamo benissimo, in che razza di società viviamo. Cioè, non è che la violenza sia causata dall'integralismo religioso. La violenza è causata dal disagio sociale e l'integralismo religioso si serve di questo disagio sociale per utilizzare la violenza ai propri scopi. È questa la verità, ecco, e che bisogna capire. Allora, ritornando a bomba, la gerarchia di valori, perché aveva fatto sto discorso. Allora, ha detto, la libertà di restare vivi è superiore a tutte le altre libertà, perché le fondano, cioè nel momento in cui sei vivo poi puoi esercitare la tua ricerca della felicità richiamando i valori dell'illuminismo e della rivoluzione americana e scegliere il lavoro che vuoi tu e fare la vita che vuoi tu, no? Ecco. E di conseguenza anche esprimere le tue idee, le tue opinioni, magari in modo civile, cortese, diplomatico, razionale, se possibile, no? se non è possibile pazienza e bisogna accettare anche questo. Comunque, dico, senz'altro, Charlie Hebdo aveva il diritto di fare queste vignette, di pigliare per il culo i musulmani, i cristiani, tutte le regioni che voleva con queste vignette certamente poco simpatiche per chi segue una religione, ecco. Però, dunque, se ricordate, oltre alle vittime del giornale, ce ne sono state altre, no? Ci sono stati degli ostaggi ebrei, fra cui una mamma con un bambino di pochi mesi, che sono stati presi come ostaggi dentro un tranquillo negozio ebreo. Ora io domando, quelle persone là, di cui non è che ci si ricordi tanto spesso, anche perché mi sembra che sono morte quattro persone, quattro ostaggi, sono stati presi come ostaggi dall'amico di quei due disgraziati che poi sono stati ammazzati, per fortuna, ecco, presi in ostaggio e minacciati di morte e qualcuno l'hanno ammazzato. Di loro non è che ci si ricordi tanto. Dico, quelli là, quelle persone là, che male avevano fatto a chiunque, no? Cosa centravano loro? Centravano solo perché erano ebrei. Allora io dico che la libertà di una mamma ebrea o non ebrea, di andare in negozio a comprare la roba da mangiare con il suo bambino piccolo e di tornare a casa in colume senza che nessuno li sequestri o li ammazzi, quella libertà è infinitamente superiore e più importante della libertà di Charlie Hebdo, dei vignetisti, di pigliare per il culo chi gli pare piace. Infinitamente superiore. perché la democrazia, la libertà, deve avere come primo principio quello di difendere la libertà e la vita dei più deboli, di chi ha più bisogno, non di chi magari possiede un giornale, è famoso in tutto il mondo e poi quando lo ammazzano fanno la manifestazione a Parigi. Capite? Cioè, esiste una gerarchia. Di conseguenza, io non è che voglio limitare la libertà di espressione. Dico soltanto che non è che io mi senta di esaltare Charlie Hebdo come degli eroi, perché gli eroi, secondo me, gli eroi soprattutto della libertà devono anche usare il cervello. Mi spiego. se tu vai di fronte a un pazzo psicopatico armato di fucile e gli fai così sei un cattino, sei un deficiente, sei un idiota, e quello ti spara, ti spara perché è un pazzo psicopatico e non vedeva l'ora di trovare il pretesto di spararti. Poi tutti quelli che passano di là oh ma che brutto cattivo che è stato quello. Ha impedito la libertà di espressione dell'ammazzato oh ma guarda un po' ma che brutto cattivo ma queste cose non si fanno. Facciamo una dimostrazione in favore del povero ammazzato che è andato a fare blu di fronte allo psicopatico. Cioè non vi sembra un tantinello ridicola la questione. Ancora più che ridicolo quello che è andato a fare blu di fronte allo psicopatico. Tutti gli altri che poi hanno detto oh che brutto cattivo facciamo la dimostrazione contro lo psicopatico che non bisognava provocare. Cioè la situazione è più o meno la stessa. Potete rappresentarla come volete ma a me sembra questo il problema. Di conseguenza poi tra l'altro se un altro stronzo amico dello psicopatico prende in ostaggio la mamma del bambino dici ma era proprio cretino questo qua che ha provocato non solo lo psicopatico ma anche l'amico dello psicopatico e coinvolto persone che non c'entravano niente. Cioè siamo in guerra quindi bisogna guerra contro l'ISIS quindi stiamo un pochettino attenti a quello che facciamo. non bisogna darsele a cercare questo in senso molto pragmatico poi fate pure tutto quello che volete continuate a fare i cretini io io dissento. Ok ho chiuso arrivederci.